Ciao a tutti, sono Jill Cooper, benvenuti al mio canale YouTube. Se vi siete iscritti, se non vi siete iscritti, iscrivetevi qua, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e condividete se vi piace il mio video, ditemi quello che volete dal mio video, così vi posso rispondere alle vostre domande, iscrivenne qua sotto e qui in alto potete trovare i video allenamento legato a questo video, cioè quello che ti consiglio per rimettervi in forma. Molto di voi dice Jill mi fai una scheda, mi aiuti a capire come mi devo allenare? Allora questa settimana vi do 5 video, consigliate qua sopra, 5 video proprio per aiutarvi, ripartire, per andare a tonificare le vostre gambe e glutei che volete tutti quanti, per allenare i vostri addominali e per fare anche un po' di training autogeno. Allora il training autogeno è bellissimo perché è un modo per rilassare il corpo, entrare in armonia con il tuo corpo, perché noi non siamo soltanto corpo, ma siamo anche una bella anima, abbiamo l'anima, abbiamo stato d'animo, abbiamo il nostro stato psicologico, insomma siete veramente belli e così vorrei aiutarvi oggi, questa settimana, proprio affrontare la settimana al meglio con diversi video per portarvi avanti a ritrovare voi stessi. Ricordate che è la costanza che ti dà risultati, se non potete andare in palestra, perché magari c'è lavoro, ricordate che ogni giorno che saltate l'allenamento diventa più difficile il giorno dopo farlo, ok? Così anche 5 minuti, anche 5 minuti di stretching, 15 minuti di yoga, ok? Potete trovare tantissimi, ottimi, eccellenti insegnanti di yoga su YouTube. La bicicletta a casa, se avete bici da casa, se avete un trampolino saltate, ma qualcosa tutti i giorni, perché è quello che ti aiuta a trovare la costanza. Questo è Lily, Lily non vuole mai essere sui video perché lei è un po' timidina, ecco la Lily, ecco la Lily sta con la mamma, guarda quanto belle le Lily, le Lily è un cane che le abbiamo salvato dalle grecce, io amo i cani e anche loro sono anti stress per eccellenza, però oggi vorrei diventare vostra personal trainer e su questo canale, sul mio canale YouTube vorrei cominciare veramente a fare molte più cose per voi. Per fare tutto questo ho bisogno delle vostre domande, ho bisogno di sapere quello che volete da me e per farlo scrivetelo sotto e guardate di qua su, guardate sempre qua su sopra per i consigli di video di questa settimana e ricordate, non pensate che adesso devo perdere 8 kg e pensate soltanto di raggiungere una meta su una bilancia, qui sul mio canale io sto parlando di una stile di vita, una stile di vita è basata su spiritual fitness, basata su trattarti con rispetto, è un percorso, è un viaggio, il movimento è un viaggio, la cosa più bella del viaggio, sai qual è? È che giorno dopo giorno, se lo fai, cominci a trovare una forza che tu non sapevi di averlo, cioè per esempio la busta d'acqua non ti pesa più, o fare le scale non ti pesa più, o fare due flessioni diventano 12 flessioni e non ti pesano più, cioè è tutto uno stile di vita, mangiare bene, allora per chi mangiare bene e disintossicare il corpo, ci sono un sacco di cose che potete fare e un sacco di consigli che potete trovare sul mio canale. Io vi auguro una giornata splendida, mi raccomando ecco il vostro allenamento di questa settimana, dammi le vostre domande e ogni giorno che passa vi auguro una giornata splendida. Baci dalla Jill, passate una settimana fantastica!